Ci risiamo con la Pasqua e ci risiamo con la carneficina degli agnelli. È stato calcolato che a Pasqua vengono uccisi circa 500.000 agnelli. Allora, io vi richiamo un po' alla coscienza, ma alla memoria collettiva di ognuno di noi. Cosa si dice? La frase che si usa di più è «Mite come un agnello», è mite come un agnello. E allora perché noi dobbiamo far rendere questo animale così mite e sacrificarlo per la nostra Pasqua. Strapparlo alla madre e mandarlo a un mattatoio perché noi vogliamo la Pasqua con l'agnello. No, rinunciamo all'agnello come a tutti gli altri animali del creato che sono semplicemente dei nostri compagni di viaggio. Queste campagne hanno sensibilizzato già l'opinione pubblica. C'è stato circa più del 50% di diminuzione. di consumo di agnelli pasquali. E proseguiamo in questa direzione. Questi miti agnelli se lo meritano proprio.